Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di come imparare a parlare veramente l'inglese. Ho già fatto altri video riguardo su come imparare l'inglese in generale, ma oggi mi voglio soffermare un po' di più sul parlare l'inglese. È una domanda che mi fanno spesso i ragazzi vedendo i miei video, per chi non mi conoscesse, io parlo ogni tanto, diciamo, un 20% sui miei canali social, anche in inglese. E quindi spesso ricevo domande dai ragazzi, ok Marco, come posso però imparare anch'io l'inglese e soprattutto come posso imparare a parlarlo? Perché ho notato, e l'ho menzionato anche in un video precedente, che ok, se ci pensate, l'inglese più o meno lo sanno tutti. Nel senso che al giorno d'oggi, soprattutto la nostra generazione, è cresciuta con l'inglese. Dalla prima elementare circa, seconda, terza, a volte in realtà anche dall'asilo si impara già a parlare l'inglese. Dall'infanzia si parla inglese, si ascoltano canzoni in inglese, si vedono film a volte in inglese, si è circondati da scritte in inglese, sulla tecnologia inglese. Quindi in realtà siamo sempre circondati dall'inglese, è solo che non l'abbiamo mai messo in pratica. E quanto è facile trovare risorse online o comunque in giro, come ho anche detto nei miei video precedenti, per imparare l'inglese teorico, quindi la grammatica, quindi saperlo leggere, quindi saperlo ascoltare, quindi con podcast, eccetera eccetera, video, quindi saperlo leggere, ascoltare. Tanto è difficile invece trovare un modo, soprattutto in questo periodo, per imparare a parlarlo nel modo corretto. Quindi oggi vi voglio parlare dei miei metodi e dei metodi che voi potete utilizzare per imparare a parlare meglio fin da subito l'inglese. Io sono andato anche al liceo linguistico, eppure ragazzi vi giuro che uscendo dalla scuola non sapevo assolutamente formulare un discorso in inglese. Sapevo farlo, ma in realtà non sapevo perché la differenza di mettere in pratica qualcosa e non metterla in pratica nel mondo quotidiano è enorme. E mi ricordo anche per un ragazzo introverso come me, andare proprio di persona, in pubblico, avevamo fatto anche uno scambio, mi ricordo in seconda liceo, in Inghilterra, e io ero con un mio amico che era molto bravo a parlare inglese, era mezzo madrelingua, e quindi ovviamente parlava solo lui. Io essendo timido e introverso non me la sentivo di parlare in inglese anche se siamo andati là, quindi è stato un exchange un po' inutile da quel punto di vista lì. E infatti prima di partire con il primo punto voglio un attimo soffermarmi su questa cosa e presentarvi lo sponsor di questo video, Cambly. Allora, come vi ho già detto, parlare l'inglese è fondamentale al giorno d'oggi. Bisogna saper parlare l'inglese, anzi io sono convinto, e continuo a dirlo in tutti i miei video, che l'inglese dovrebbe essere la prima lingua insegnata prima di quella locale. Perché insegnare una lingua inizialmente con cui posso parlare solo con poche persone e poi insegnare una lingua con cui posso comunicare con tutto il mondo? L'inglese, ragazzi, sia per il mondo del lavoro che per il mondo scolastico, per qualsiasi cosa, è essenziale al giorno d'oggi. Ed è per questo che ho deciso e sono felice di collaborare con app come Cambly. Cambly è una piattaforma di inglese e-learning che permette di fare lezioni individuali con gente madrelingua. Gli insegnanti ci sono a qualsiasi ora, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, in una chat integrata nell'app. Quindi non serve uscire dall'applicazione per iniziare la chat. Quello che mi è piaciuto è che tutte le chat, tutti i video, sono registrati in modo che puoi riguardarti i video, e dopo ci arrivo spiegandolo in uno dei punti, riguardare il video in modo da poter migliorare, sì, la propria pronuncia, ma anche semplicemente il modo in cui si comunica. Sentire quando si ripetono troppe volte le parole, quando si usa sempre lo stesso termine. Quindi ci si può correggere guardando gli errori che si è fatto normalmente mentre si faceva una normale conversazione con un madrelingua. È adatto per persone a qualsiasi livello, c'è anche un traduttore automatico nella chat per chi ad esempio è un principiante, oppure si può scegliere qualcuno che parli sia inglese che italiano. Io ad esempio quando ho fatto la mia prova ho scelto un ragazzo che era del Belize, perché io non avevo idea né di dove fosse il Belize né della cultura, ed è stato super simpatico, mi ha spiegato tutta la storia del Belize, abbiamo chiacchierato, mi ha spiegato dov'è la lingua, come funziona, e io gli ho parlato dall'Italia e lui non aveva mai conosciuto un ragazzo italiano, quindi è stata una conversazione anche interessante. Infatti la maggior parte degli insegnanti lo fanno come lavoro full time, però ci sono anche persone che sono professionisti in vari tipi di settori, aziende, quindi si può scegliere ad esempio se a me interessa parlare di argomenti come la finanza personale o la crescita personale, trovare qualcuno che lo faccia o un avvocato o qualcosa del genere, comunque con cui parlare di argomenti se mi interessa un po' più specifici. E si possono anche scegliere in base all'accento. Inclusi nel prezzo dell'abbonamento ci sono anche vari corsi e workshop, come anche quello per imparare a avere un colloquio di lavoro, e i prezzi ragazzi sono super competitivi, quindi veramente non c'è nessuna scusa. Si può arrivare addirittura dai 4 ai 5 euro per 30 minuti di conversazione, che con un insegnante madrelingua è veramente ottimo. E in più con il codice marcodelia potete avere un 50% di sconto su tutti gli abbonamenti, ma in ogni caso la prova è comunque gratuita, quindi tanto è gratis, iscrivetevi e provate almeno a vedere com'è. Con la prova gratuita avete 10 minuti di lezione gratis, non dovete inserire né carta di credito né altro, basta semplicemente registrarsi. Quindi ecco qua ragazzi, trovate tutto in descrizione, il link in descrizione è anche col mio codice sconto. Grazie mille Cambly per aver sponsorizzato questo video. E ragazzi ricevo molte proposte di collaborazioni per ogni video, ma accetto, e non sto scherzando, accetto solo di fare collaborazioni con prodotti e servizi che secondo me possono sia aiutare voi che anche aiutare me. Quindi cose di qualità, cerco di mantenere un certo standard e quindi non collaboro diciamo con tutte le aziende, scelgo solo cose che possono essere utili a me e che possono essere utili anche a voi. Quindi continuiamo con il video. Dalla meno efficace alla più efficace, il numero 5, leggere in inglese ad alta voce. Quando si compra un libro, soprattutto di crescita personale, così prendi due piccioni con una fava, compralo in inglese, sforzati, fidati che i libri non sono così difficili come credi. Se diventa troppo difficile magari puoi comprare libri tipo romanzi, qualcosa che è più facile da leggere, qualcosa che è più semplice, però prova e sforzati. Hai un traduttore a fianco? Mettiti Google Traduttore o quello che vuoi a fianco. su internet e cerca ogni parola che ti è veramente difficile da capire, ma non tutte le parole. Le parole per cui non riesci a capire e a continuare il discorso. Quindi, primo consiglio, leggi, compralibri, qualsiasi cosa, blog con un traduttore a fianco e leggi ad alta voce. Sforzati a leggere ad alta voce. Ci sono anche degli audiolibri che si possono comprare dove tu puoi ascoltare l'audiolibro mentre leggi e anche quello può essere molto utile. Quindi ascoltare mentre leggi così il tuo cervello associa la parola a quella cosa che stai leggendo. Oppure leggere insieme a mentre ascolti l'audiolibro. Numero quattro, migliorare l'inglese in generale. Quindi ascoltare podcast, guardare film, guardare video, e soprattutto fare video. Io, il modo in cui ho imparato l'inglese, è aprire la videocamera e fare video. Il primo video che ho fatto è stato in inglese per il canale YouTube. Non so perché l'ho fatto in inglese. Come prima cosa mi è venuto spontaneo, forse perché seguivo la maggior parte dei YouTuber in inglese e quindi volevo fare parte di quella community. Adesso sto pian piano switchando più sull'italiano. Però diciamo che essere partiti subito con l'inglese e sforzarsi di parlarlo davanti a una videocamera è qualcosa che mi ha aiutato veramente tantissimo. Perché ti accorgi, prima di tutto, editando degli errori che fai. Quindi, ritorno a quello che dicevo prima mentre parlavo di Cambly, riesci a riascoltarti gli errori e io mi ricordo che facevo sempre gli stessi errori. Dicevo sempre guys, guys, guys. Oppure ripetevo sempre le stesse parole. E quindi pian piano me ne accorgevo, li toglievo mentre li vedevo in editing e poi li toglievo proprio parlando. Quindi sono migliorato un sacco anche con l'affluenza a forza di parlarlo davanti a una videocamera. Comunque, migliorare l'inglese in generale è una cosa che aiuta tantissimo. Al numero 3 è quello di fare un esercizio che si chiama shadowing. È qualcosa che faccio anche con l'addizione italiana per imparare meglio l'addizione italiana. Ma per imparare soprattutto ad avere un accento perché alla fine l'inglese magari uno sa parlarlo o sa, diventa fluente dopo un po', ma gli rimane quell'accento italiano. Per imparare ad averlo e per migliorare la propria affluenza bisogna fare un esercizio di shadowing. È qualcosa che io faccio tutte le settimane. Metto un video, un film, un qualcosa di qualcuno che voglio imitare. Io di solito metto attori famosi, quindi Leonardo DiCaprio, Will Smith, eccetera, eccetera, che hanno più o meno tutti lo stesso accento standard, misto California, Los Angeles, Hollywood. e cerco di imitare quell'accento lì. Ci sono anche dei corsi che insegnano come migliorare il proprio accento, quindi io faccio anche dei corsi e degli esercizi, però migliorare l'accento è qualcosa che aiuta tantissimo. Quindi shadowing. Oppure ci sono anche proprio dei video apposta in cui, proprio shadowing exercise, in cui ti fanno dire, cioè tipo, lui dice una frase e tu la ripeti esattamente come la dice lui. E poi la ripetete insieme. Oppure addirittura tutto insieme. Quindi parlare nello stesso modo, stessa cadenza, stesso accento, stessa affluenza, stesso respiro, osservare attentamente come muove la bocca, eccetera, di come lo fa la persona che sta parlando madrelingua e quindi ripeterlo. Al numero due, chiacchierare con un madrelingua. Ovviamente non c'è modo migliore di imparare una lingua che chiacchierare con un madrelingua, per questo Cambly può essere una cosa molto utile. Ci sono anche altri metodi, se ad esempio io abito sul lago di Garda, che è un posto molto turistico e quindi trovo tante persone che parlano inglese. Quindi uscire e parlare con persone madrelingua è sicuramente qualcosa che aiuta. Anche perché ricordatevi che anche semplicemente parlando italiano, se voi andate in un'altra regione per un po' di tempo e parlate solo con gente con un accento diverso dal vostro, dopo un po' noterete che iniziate ad avere qualche parola anche voi a parlare con quell'accento. Quindi immaginatevi di parlare con una, due, tre persone in continuazione con un certo tipo di accento inglese, ovviamente migliorerete tantissimo anche voi l'inglese. E al numero uno, ovviamente, oltre a tutte queste cose che ho detto, andare all'estero è la cosa migliore per migliorare l'inglese al 100%. Quindi inserirsi completamente in un ambiente inglese è la cosa migliore. Per migliorare lo speaking, per migliorare il listening, per migliorare il reading, qualsiasi cosa. Quindi ovviamente sei la media delle persone con cui ti circondi e se ti circondi di persone inglese, l'inglese per forza lo impari. Poi ci vuole un minimo di corsi, un minimo di, come io dico sempre, trovate anche online, mille risorse per imparare un po' di grammatica base, per migliorare un po' l'accento. Ci sono vari corsi anche di influenza, per saper gestire le pause, le parole. Quella è una cosa sicuramente che aiuta. Anche semplicemente capire quando fare una pausa e quando no. Sono cose che la differenza poi si sente tantissimo di uno che si vede che lo parla da tanto e uno che si vede che non l'ha mai messo in pratica. Quindi ragazzi, la pratica è veramente qualcosa che aiuta tanto. All'inizio magari sembrerete stupidi, all'inizio magari vi metterà in imbarazzo parlare in inglese, ma non cercate di sforzare troppo un accento inglese che non avete. Piuttosto fate i vostri errori, parlate, ma l'esperienza è qualcosa che vi porterà sulla giusta strada senza neanche che ve ne accorgete. Quindi un minimo di sforzi, consapevolezza ci vuole, però diciamo che inserendovi nell'ambiente corretto o con i metodi corretti o un mentore corretto, persone corrette, corsi, eccetera, eccetera, è una cosa che sicuramente vi porta sulla strada giusta. Quindi esperienza, mettete in pratica, mettete in pratica, mettete in pratica. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, è un po' più lungo del solito, però ci tenevo a parlare di questi argomenti perché è qualcosa che continuate a chiedermi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora iscritto, lasciatemi un commento e un mi piace, grazie mille Cambria ancora per aver sponsorizzato questo video e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!